L'auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca ha ospitato il congresso fondativo del nuovo comitato territoriale Arci-Lucca-Versiglia. L'assise è nata da un percorso durato quasi un anno, in cui si è proceduto allo scioglimento e alla conseguente fusione dei due distinti comitati di Lucca e Versiglia. Dopo l'introduzione dei presidenti uscenti, Beppe Corso e Carmela Di Luigi, si sono svolti lavori congressuali in cui sono stati approvati gli organismi di garanzia e la composizione del Consiglio. Nel pomeriggio si è così riunito il nuovo consiglio direttivo di Arci-Lucca-Versiglia, composto dai presidenti dei circoli del territorio che ha eletto i nuovi organismi politici. Presidente del comitato è stata eletta Carmela Di Luigi, vicepresidenti Beppe Corso e Stefano Carmassi. Infine la nuova presidenza del comitato territoriale, composta da Silvana Secchi, Marco Corzetti, Donata Lucchesi, Marco D'Alessandro, Daniela Pezzini e Stefano Piccolomini.